Oggi si conclude l'anno dedicato a San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, e dopo domani, 10 dicembre, si chiuderà l'oretto Giubileo Lauretano. Che la grazia di questi eventi continui ad operare nella vita nostra e nelle nostre comunità. La Vergine Maria e San Giuseppe ci guidino nel cammino della Santità. La Vergine Maria e San Giuseppe ci guidino nel cammino della Santità.